Ragazzi, allora ci stiamo preparando per l'evento Champions League, ancora è troppo presto per me, preparerò la squadra penso i primi di gennaio, mancano ancora 11 giorni, poi ovviamente bisogna sempre fare il calcolo dei giocatori che si hanno a disposizione e in base all'età che abbiamo metteremo giù una squadra per combattere nel prossimo evento Champions League. Allora, che dire, ci sono stati un po' di eventi dove sono usciti un po' di pacchetti, finalmente qualche permesso di costruzione che viene dato con un po' più di frequenza e quindi come avete visto nella mia schermata principale, abbasso un po' il volume, è stato messo praticamente il... Cioè, vedete qui, sto in questo caso specifico, sto portando, sto costruendo non lo stadio ma l'accademia. Però, allora, veniamo a noi, pacchetti da aprire ce ne sono veramente 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 tanti, ne ho messi da parte circa 8 e poi ci sono 5 giorni con questo pacchetto che è magnifico, a vedere la sua copertina con Beckham, Maradona e la nuova leggenda uscita proprio oggi che è, dico. Ora, andiamo ad aprire questi pacchetti sempre ovviamente in ordine di possibilità di giocatore forte. Quindi, i primi sono i 4-7 e poi abbiamo anche un 7 posizione, un 6-7. Quindi, primo, vediamo, è un 4, è un 4 ed è pavone, pavone. Riaffrontiamo subito e andiamo a toglierci dalle scatole questi pacchetti abbastanza inutili per il semplice fatto che non esce mai niente di buono. E poi, tra poco, si sale di livello e come avete visto, oltre al 7 posizione ne ho anche 7, ne ho 2 da 7 normali, più un 1 da 6. E adesso, andiamo ad aprire i 5-7 e speriamo che la fortuna mi cominci ad arrivare. Anzi no, il posizione è un 5-7, ragazzi, il rettifico non è un 7. Quindi, il primo 5-7 è ovviamente un 5. E stiamo parlando di Cyril Theroux, buona punta, peccato per l'età che mi è capitata, però vabbè, è un 5 stelle, quindi non ha importanza. Ora, argento, contatto 5-7, un altro e poi si comincia con quelli più importanti. Ora, un altro 5 e vediamo se stavolta, almeno, come età, è Okaka, Okaka, 22 anni. Ed eccoci qua, allora, andiamo ad aprire il 5-7, contatto fisso, posizione argento, 5-7, non lo so, andiamo a vedere un attaccante, ovviamente. Vediamo cosa uscirà fuori da questo pacchettino. Niente, niente, quindi una punta, una punta di 5 stelle, ancora Okaka, incredibile, questa doppietta ravvicinata di Okaka. E ora, finalmente, apriamo i pacchetti, quelli che contano e speriamo di essere soddisfatti alla fine. Ok, quindi, primo 6-7, contatto oro. È un 6, e speriamo sia un buon 6. Dai! Uh, quando vince tutto Manchester United, va bene, va bene, ragazzi, Fellaini, cioè non si può vedere in faccia, è bruttissimo. Con poi questi capelli, se sopracciglia, è veramente improponibile. Però, 6 stelle, 6 di 17 anni e con il tratto intimidazione, male, 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 non è. E ora, i pittorati, quali sono? Quali sono i 7 stelle che entreranno nella mia lista? Il primo. Primo 7. Dai, ragazzi, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Colucante, un colucante, 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 fortissimo, 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 fortissimo. Giocatore ex Leicester, passato al Chelsea, uno giocatore che ha percorso tantissimi chilometri, con recupera pallone, ho visto un'azione veramente all'Ieno, velocissimo, un giocatore veramente necessario in una squadra di calcio, soprattutto a questi livelli, dove il fisico va al di là, a volte, della tecnica, o dove comunque in squadre con giocatori tecnici devi avere per forza uno che ti corre così tanto e ti ricopri i palloni. Ora, altro 7 stelle dopo Kanté. Vediamo se ancora, se andiamo a piscare in Premier, ancora Premier ed è David Luiz. Salito, salito anche lui a 7 stelle, me lo ricordo che era arrivato addirittura a 5, quindi, a meno che, no, niente, David Luiz da 5 è ritornato a 7. Stranissima questa cosa, ma comunque, ragazzi, questi sono i pacchetti che mi sono tenuti da parte, ma come vi ho già detto, l'intenzione è quella di andare ad aprire, ovviamente, il pacchetto, dei pacchetti, dei pacchetti dove abbiamo le tre leggende tra cui, vabbè, ovviamente, un mostro sacro che è Maradona e quindi con queste 300 monete adesso vediamo se c'è qualcosa, se c'è qualche pacchetto bordabile, perché ancora è la prima volta che li apro, quindi abbiamo un 200 da un colpo, qui abbiamo un 100 da uno, andiamo 100 da uno e poi facciamo un colpo da 200. Qui non abbiamo niente di garantito, quindi questi pacchetti, ragazzi, potrebbero rivelarsi uno spreco di monete, come mi è capitato in passato. Ma è un gioco, bisogna provarci come va, va tanti 5 stelle, sì, 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 calma, 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 perché con 100 monete mi sono un po' reso 2, 6 stelle e un 7, quindi fermi tutti, perché già così è andata alla grande. Il primo è Lorente, 5 stelle, ex Juve, Lucas Perez, altro 5 stelle, e ora il primo 6 stelle è leggenda, è leggenda, il primo 6 stelle è leggenda, quindi portiamoci a casa questa leggenda e chi è il 6 stelle leggenda? Dejan Stankovic, quindi ci sono tutte le leggende, bello questo pacchetto. L'altro è un 7 stelle e andiamo a pescare ancora il Chelsea con Alvaro Morata, e quindi Stankovic, Morata e l'altro 6 stelle è Pablo Saravia, è salito anche lui a 6 stelle, nuovo fresco, quindi una leggenda anche in questo caso e anche stavolta Mr. Pest Club Manager si porta a casa una leggenda e ora proveremo questo colpo da 200 con un solo 6 stelle garantito e raga, come va va, anche questa volta l'importante è provarci sempre raga, non avere rimpianti, c'era il pacchetto, ci ho provato, come va va, quindi anche qui mi aspetto una caterva di 5 dopo che mi è uscito il 7 e il 6 lì, quindi mi aspetto anche qui, il minimo, il minimo, anzi no, mi hai dato 2 6 stelle, quindi anche qui poteva andare meglio ma poteva andare peggio, quindi primo 5 stelle, Pies Wendorven, Zouet, portiere, poi secondo ancora Chelsea ragazzi, Batshuayi, Batshuayi, questo ce l'ho, ce l'ho in squadra adesso, altro 5 stelle è De Luffeo che forse torna in Italia a gennaio, Milan, Inter si pensa, poi si vedrà, Paredes, un tratto razzo, quel tratto lì razzo è nuovo, mi sembra un razzo a me, poi Johnson, terzino destro, ora, altro è Trigueros, Gwendes che non so proprio chi sia, Casimiro, 21 anni, 6 stelle, ottimo 6 stelle Casimiro ragazzi, ottimo, 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 Maduo, Gabriel Sosa morto ragazzi, non ci credo, non ci credo Gabi Goll, e ora l'altro 6 stelle è del Benfica ed è Jonas, seconda punta, ma anche punta ragazzi, a meno che gli abbiano cambiato la scheda, anche lui una punta, oh raga, direi che è andato alla grande, cioè, 7 stelle sono arrivati ovviamente dai pacchetti, oh ho speso 300, mi sono arrivati 4, 6 stelle, e un 7 e una leggenda, tra cui appunto, Dejan Stankovic, quindi andiamo a vedere la scheda di, andiamo a vedere la scheda di Stankovic, e poi, raga, vi saluto, perché si deve valutare, se farlo entrare in, in All All Fame, un indomani, perché le leggende, hanno sempre qualcosa, qualcosa in più, scheda per vedere se appunto, le abilità, corrispondono effettivamente, a quelle che aveva il giocatore, un giocatore grintoso, con un'ottima, un'ottima resistenza, un ottimo tiro dalla distanza, un'ottima facilità, facilità di tiro, gran carattere assolutamente, cioè, un mezzo leader in campo, sia quando era la Lazio, che appunto, quando è passato, quando è passato all'Inter, quindi, un giocatore che da una parte, si può dire, che, mi sarebbe sempre piaciuto, piaciuto vedere, giocare a calcio, e anche, anche se fosse, se fosse arrivato al Milan, perché il mister, pescola manager è milanista, allora, raga, andiamo a pescarvelo così, perché se no, ci metti gli anni, perché tutte le volte, è lentissimo, quando, quando registro, quindi, ordine firmato, perfetto, e ora andiamo a aprire subito, la scheda del giocatore, eccolo qua, 80, 22 anni, progressi normali, quindi, fa ancora in tempo, per entrare in un all fame, 23, 24, già si fa un po' più fatica, a preparare il giocatore al meglio, allora, ruoli, seconda punta, trequartista, centrocampista centrale, se è giusto, ok, e tiro di collo, finalizzazione acrobatica, tiro di prima e leader, dribbling e girata, tiro da media e distanza, ottimo giocatore, ottimo del giocatore, anche Dejan Stankovic, quindi raga, vi ho fatto vedere anche questa leggenda, ci vedremo con l'altro profilo, prima di, prima della fine dell'anno, grazie per, per continuare a, per continuare a seguirmi, per, se questo video vi piace, mettete like, e, grazie, 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 grazie raga, per, per tutto, un saluto da Mr.PastClubman, ciao,